buongiorno mi riconoscete sono proprio io l'architetto andrea palladio voglio parlarvi di un progetto che ho realizzato per la mia amata vicenza alla metà del cinquecento la basilica ma se pensate si tratti di una chiesa vi sbagliate ascoltatevi e vi svelerò il mio piccolo segreto con il termine basilica ribattezzai un edificio che era stato costruito un secolo prima al tempo della dominazione veneziana si chiamava palazzo della ragione ed è stato realizzato unendo due strutture medievali il palazzo vecchio e il palazzo del comune era affacciato su piazza dei signori allora platea magna e tutto intorno era circondato da altre piazze la piazzetta del pesce la piazza delle biade e la piazza delle erbe doveva servire per la pubblica amministrazione e anche per celebrare i processi per questo fu collegato al carcere un'antica torre medievale detta torre del tormento posta proprio alle sue spalle tramite una scala interna sul lato nord si poteva anche accedere al palazzo del podestà vicino alla torre civica con il suo grande orologio meccanico insomma tutti gli edifici per la gestione della città erano racchiusi in poco spazio chi arrivava da fuori città riconosceva l'edificio da lontano per la sua copertura a carena di nave una sorta di grande ombrello a protezione della città verso la fine del quattrocento era stato realizzato anche un loggiato che cingeva il palazzo su tre lati per permettere il passaggio coperto alle persone che ogni giorno giungevano qui per lavoro o affari ma qualcosa andò storto e l'angolo sud ovest crollò passarono molti anni prima che il comune indicesse un bando per costruire le loggie tra i tanti nomi che furono presentati al gran consiglio ci fu anche il mio proposi una soluzione originale la serliana l'avevo studiato sul trattato del mio collega sebastiano serlio ma dovetti fare moltissimi calcoli e disegni prima di riuscire ad ottenere il risultato atteso avvolgere su tre lati il palazzo rispettandone tutti gli assi visivi preesistenti e il modello che scelsi rifletteva appieno i principi vitruviani di solidità funzionalità e bellezza volevo rendere la piazza monumentale darle una nuova veste una veste rinascimentale per le loggie scelsi la pietra bianca di piovene archi a tutto sesto sorretti da pilastri e da coppie di colonne per lato sormontati da architrade da dove è nata l'ispirazione per la basilica dalle facciate delle basiliche civili romane anch'esse luoghi in cui si amministrava la giustizia era un mio desiderio recuperare il valore etico ed estetico di quelle antiche strutture non potevo neanche immaginare che un giorno sarebbe stata chiamata da tutti palladiana piazzolare 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 piazzative